Ciao a tutti! Oggi prepareremo il caipirosca alle fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono fragole taglia da pezzetti, ghiaccio, lime, il succo e le fettine, zucchero di canna e vodka. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il ghiaccio e lo facciamo tritare per 6 secondi a velocità 6. Mettere da parte. Mettere nel boccale lo zucchero di canna ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le fragole ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 8. Mettere sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere la vodka e il lime ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 2. Componiamo la kaipiroska. Mettiamo nel bicchiere un po' di ghiaccio, una fettina di lime, un altro po' di ghiaccio e un'altra fettina di lime. E completiamo con il ghiaccio. Versiamo l'aperitivo e decorare con una fettina di lime, una fragola e le cannucce. Kaipiroska alle fragole! Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!